Buongiorno a tutti e anche alle autorità presenti. Ringrazio Massimo per l'invito a questo evento che è molto importante per l'ASI perché la Smart Factory è sostanzialmente il progetto iconico del PNRR Spazio. Sono due linee di investimento. La prima è dedicata alla risoluzione di alcune sfide su alcuni prodotti specifici e critici dello spazio, quindi risoluzione di single source, risoluzione di dipendenza da fornitori estereuropei e l'altra, quella POR, che era quella della realizzazione di una Smart Factory aperta a tutti, digitale, con grandi capacità produttive dedicata ai piccoli satelliti. Ora qui ho sentito parlare prima di sfide campioni nazionali ed era proprio questo di cui avevamo bisogno, di un campione nazionale che cogliesse questa sfida. Perché? Perché quando abbiamo iniziato a progettare il PNRR questo progetto sembrava proprio quello più sfidante. Noi realizziamo con il PNRR la costituzione IRI, realizziamo gli Norbit Services, siamo leader in questo momento a livello europeo per le operazioni orbitali di prossimità con grandi progetti, però questo progetto è proprio quello che era più difficile. Perché? Perché per molti arrivare a una standardizzazione, a una condivisione di metodologie, ma anche target di prodotto comune a una filiera, sembrava una cosa molto difficile da realizzare. Perché il nostro sistema in cui si fanno prototipi, ci si fanno missioni che sono prototipi, Franco lo sa, nella sua esperienza in Esa, più che decennale, insomma trentennale, sa che cosa significa. L'altra difficoltà era che i progetti PNRR dedicano poco tempo, hanno dedicato poco tempo alla progettualità, quindi avevamo bisogno di qualcosa di cantierabile, quindi era più consigliabile forse rivolgersi a potenziali dei prodotti già mature, per esempio la risoluzione dei tempi di produzione della costellazione Cosmoscanism, del deployment della costellazione. Però abbiamo creduto in questo progetto non solo nasi, ma anche avevamo avuto dei feedback, un po' dalla filiera di una certa necessità. Qual è la necessità? Il nostro paese ha investito negli ultimi anni, a partire dal 2016, su una linea di prodotto che è quella dei piccoli satelliti. Sono satelliti che oggi sono in grado, grazie alla miniaturizzazione delle tecnologie, di deliverare, di dare dei dati che sono utili per applicazioni commerciali, per applicazioni istituzionali, ma anche dati scientifici importanti. Abbiamo investito così tanto che noi siamo i leader europei in questo settore. Quando si parla di piccoli satelliti che sono in grado di dare un prodotto vero, non una semplice dimostrazione, si parla in italiano. Ma noi siamo a livello internazionale anche solo dietro gli Stati Uniti, cioè la nostra filiera, dialogo con la filiera statunitense, chiaramente non solo nel settore dei piccoli satelliti, ma in questo settore siamo gli unici. Noi scambiamo con i giapponesi, con le altre potenze europee e internazionali, nessuno ha questa potenza, questa capacità di filiera. Quindi questo è importantissimo. Abbiamo operatori che sono in grado di realizzare piccoli satelliti, ma questi operatori sono molto piccoli, quindi non sarebbero stati in grado di realizzare una capacità produttiva che potesse far riprescere. Quindi la scommessa era questa, trovare un campione nazionale che fosse in grado di realizzare una space factory aperta. Abbiamo fatto questa competizione, abbiamo lasciato la linea tradizionale, la linea innovativa e alla fine questo campione si è presentato, è un team di imprese che guarda caso include anche un ente di ricerca, quindi di interventare una space, è una facilità diffusa e quindi questo è importante. Il nostro sistema di imprese è diffuso, la facilità è diffusa, quindi risponde anche a un'esigenza di connotazione geografica. Quindi questi sono elementi importanti che sono elementi, diciamo, e quindi il momento giusto ce ne abbiamo, una serie di operatori in grado di realizzare questi oggetti, arriva la space factory, questa space factory sarà aperta. Perché sarà aperta? Sarà realizzata da questo team di imprese, la tale Salina Space con Siter, Cira e Alcortec, una piccola mini-impresa e sarà poi gestita attraverso una partnership pubblico privata, di cui l'ASI è proprietaria al 49% e che potrà rendere disponibile la propria quota di proprietà a tutto il resto del comparto. Quindi questo ci sarà un'accessibilità da parte di tutti gli operatori nazionali e quindi quella logica di filiera di cui ho sentito parlare prima perché non si vince da soli, è chiaro che non si vince da soli, ormai la sfida è globale, le nostre aziende non possono più misurarsi a livello nazionale, devono poter vendere sistemi in tutto il mondo per poter sopravvivere. Quindi questa è la sfida che vogliamo con questo evento di oggi. Abbiamo iniziato, abbiamo posto la prima pietra, ma i lavori stanno andando avanti già da un bel po' e tra poco ricominceremo a realizzare le infrastrutture. La cosa importante è che questo laboratorio include, questo facility includerà anche un laboratorio, un joint lab che sarà aperto agli enti di ricerca. Non dobbiamo dimenticare che il mondo dei piccoli satelliti è nato nelle università e attraverso un trasferimento di tecnologia è arrivato al settore industriale. Questo deve essere il motore di questa facility, è importante perché è il motore della crescita. Quindi è il motivo per cui, come dicevo prima, per noi è il progetto più rappresentativo. Perché il progetto più rappresentativo? Perché il PNRR era un intervento destinato alla crescita e di fatto noi stiamo realizzando un oggetto, una facility che servirà alla crescita delle nostre imprese e questo è l'augurio. Quindi in bocca al mio cuore, abbiamo tutto pronto e quindi dobbiamo solo partire. Grazie.